ciao a tutti ragazzi quest'oggi è la giornata dedicata a dante alighieri il sommo poeta il padre della lingua italiana questo è il lavoro di land art che gli ho dedicato qui a tenerife mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale youtube giovanni saldi ciao a tutti e alla prossima